Buongiorno, oggi siamo nei Vivai Capitani a Monopoli in Puglia per una breve presentazione, una breve rassegna di quella che è la produzione di questi vivai. Sono Francesco Intini, collaboro, lavoro all'interno, ho il piacere di lavorare all'interno dei vivai da più di un quarto di secolo e mi occupo, mi sono occupato, mi occupo anche adesso del giardino botanico che è la nostra gemma, il nostro fiore all'occhiello e nello stesso tempo curo la cosiddetta area sperimentale, la possibilità di scoprire piante nuove per il mercato e quindi dopo una fase iniziale di riproduzione valutiamo quella che è la forma, la proposta commerciale più interessante per i nostri clienti presenti in Italia e non solo. L'argomento scelto per questa conversazione era l'impiego di piante ornamentali nell'allestimento di un giardino mediterraneo. I Vivai Capitani hanno sempre puntato sui giardini mediterranei, pensandoli come i giardini del futuro, giardini nei quali si può economizzare l'acqua che sappiamo diventerà un bene sempre più prezioso e giardini che richiedono anche una bassa manutenzione, una manutenzione veramente ridotta che comunque riescono ugualmente a regalarti piacevoli momenti ed emozioni e sensazioni. Nell'allestimento di un giardino chiaramente le tematiche da affrontare sono tantissime, si va dalla necessità di una pianta che copre il suolo, una pianta che riesca a salire sul muro, una pianta che ci schermi, che crea la privacy, quindi una siepe, una barriera e un cespuglio che possa andare a colmare un angolo vuoto nel nostro spazio verde. Per cui magari possiamo seguire nella presentazione proprio questo filologico e quindi partiamo per esempio dall'essenza che possiamo utilizzare per realizzare una barriera verde, una siepe. Alcune saranno ovvie scontate in un giardino mediterraneo, sicuramente le piante che abbiamo qui che ho disposto alle mie spalle, quali l'alloro, quali l'eleanius, il lentisco, sono piante che ovviamente sono straconosciute e che si associano proprio perché rientrano nel paesaggio naturale mediterraneo sono state da tempo utilizzate proprio nella realizzazione di barriere nei giardini privati. Ancora possiamo continuare con il corbezzolo, con la filirea, l'olivastro, con la pianta del mirto, magari hanno preso piede e si sono imposte all'attenzione del pubblico negli ultimi anni il metrosideros excelsus, per il quale è importante sottolineare che rispetto all'essenza e finora presa in esame è un pochino più sensibile alle basse temperature, per cui è perfetta qualora dovessimo allestire una barriera verde in prossimità di aree costiere, ma se ci spingiamo in aree più interne, anche delle regioni mediterranee, magari è un po' più sensibile a temperature che vanno sotto lo zero, ovviamente si tratta di temperature che magari devono essere durature, un periodo protratto di freddo può danneggiarla. Lo stesso dicasi per altre due essenze che vediamo qui, cioè il mioporum leitum, è una pianta che stiamo producendo da qualche anno, si differenzia dall'insulare che è più conosciuto soprattutto nelle dimensioni della foglia, tra l'altro in questa stagione vedete accentua il colore rosso dei suoi fusti che la rende altrettanto gradevole ed attraente, è una pianta appunto che si presta come il metrosideros per la realizzazione di barriere anche in maniera molto veloce, molto rapida, se abbiamo bisogno di creare subito una quinta verde in prossimità del mare puntiamo su questa pianta. La fioritura è caratterizzata da piccolissimi fiori bianchi, interessante è la fruttificazione fatta di bacche rosse. E magari in zone invece più sottoposte a un clima rigido, un clima più freddo, ovviamente sorvolo perché sono stranote conosciute, la piracanta che vediamo qui in questa stagione è la regina dei giardini con la sua ricca fruttificazione, qui la vediamo nella versione piracanta-navao, oppure possiamo utilizzare le tappuccine, altre varietà che non ho presentato ma che sono conosciute la maggior parte del pubblico che si occupa di questi argomenti. Per formare una siepe in prossimità del mare, dove quindi si può contare sull'effetto mitigante della brezza marina, un'australiana che si è imposta molto nel mondo del giardinaggio in questi anni, la melaleuca mesofila che unisce al profumo delle sue foglie stropicciate, viene fuori un profumo aggrumato e che è in grado di regalarci tra fine, primavera e inizio dell'estate, questi graziosi pompon rosa che la colorano anche per un lungo periodo e poi delle altrettanto accattivanti pigne legnose che perdurano a lungo sulla pianta contenenti microscopici segni. Una pianta che ovviamente necessita di frequenti potature, va lavorata, i giardinieri la conoscono bene, va tagliata frequentemente perché come vedete tende ad avere dei fusti che si allungano e quindi per ottenere l'accessimento è necessario intervenire con frequenti potature. Un'altra pianta che presentiamo perché può costituire, può essere utilizzata sempre per formare delle barriere è la pianta dell'Escallonia macranta. La pianta dell'Escallonia macranta è una pianta sempre verde, la fioritura si estende dalla primavera all'autunno, quest'anno poi con questo ottunno particolarmente mite la pianta sta gioiendo per queste condizioni, i fiori sono molto belli e anche il portamento della pianta che è in genere un portamento rotondeggiante, un cespuglio che anche da solo assume una forma ordinata, composta, ma possiamo ovviamente contribuire con il nostro taglio a organizzare in maniera più ordinata, più regolare. Un'altra pianta che può essere utilizzata per formare delle siepi, in questo caso però punterei sicuramente su un'area di clima più mite è la murraia paniculata, questa pianta che secondo me non deve mancare in ogni giardino perché presenta dei fiori profumatissimi, quando va in fioritura a ondate nel corso dell'estate il profumo si avverte anche a metri di distanza, è una rutacea, appartiene alla famiglia degli agrumi e ha le stesse necessità di un agrumi, quindi magari è una pianta che è un tantino più esigente per quanto riguarda gli apporti di acqua, ma riesce anche a superare periodi di siccità prolungati e al bellissimo fiore bianco di cui si nota ancora qualche ultimo bocciolo che fiorisce in questo momento, segue poi una bellissima fruttificazione, ecco quello che è interessante dire è che molte piante dobbiamo scegliere non soltanto in funzione della fioritura perché la fruttificazione sicuramente è un elemento molto molto da potenziare, da arricchire perché è un momento in cui la pianta è altrettanto interessante. Nel giardino abbiamo detto possiamo avere bisogno di coprire il suolo, il terreno, qui in Puglia in genere ci dispiace un po' coprire il suolo, perché abbiamo dei pratti naturali che sono bellissimi, sono dei mondi botanici in pochi metri quadrati, però chiaramente può subentrare questa necessità di coprire il terreno magari con l'effetto, il nostro intento è quello di bloccare l'espandersi di erbacce, di piante infestanti e quindi la scelta è veramente molto ampia. Chiaramente qui proponiamo delle piante tappezzanti che però ci permettono sì di fare la capriola ma non di camminarci in continuazione e quindi magari il mio consiglio è quello di creare in queste zone che andiamo a coprire dei camminamenti, dei passaggi perché in realtà sono piante che non sopportano un continuo passaggio e quindi andiamo dalla Lippia Repens che qui da noi nell'Italia meridionale sta soppiantando il classico prato all'inglese anche perché ha il vantaggio di avere una fioritura che impreziosisce ancora di più questo tappeto di smeraldo e nello stesso tempo se siamo in prossimità del mare la nostra, l'autottona Franchenia Levis, una pianta che da noi troviamo nelle conche in prossimità delle scogliere, quindi schizzi di salato, di mare, non la intaccano per nulla, oppure questa pianta che a tutti gli effetti viene considerata una pianta di cemento, è veramente una pianta molto compatta, la Dimondia Margarete, ha la fioritura che è un po' incastonata tra le foglie, si nota poco, ma riesce veramente a coprire non soltanto piani orizzontali, ma anche scarpate, zone declivi e quindi a trattenere anche gli spostamenti di suolo legati alle ormai stranote bombe d'acqua. Poi se siamo in zone magari più, che in inverno toccano qualche grado in meno, la Aronichia cappella che produciamo da alcuni anni, una pianta che appunto, proprio per la sua provenienza un po' più montuosa, sopporta temperature minime più basse, ma non sono le uniche piante che possiamo utilizzare per coprire il suolo, perché per esempio possiamo utilizzare la bellissima, quelle che in inglese si chiamano Lamps Air, cioè l'orecchio d'agnello, la Stachis lanata, che ho posizionato qui davanti, eccola, che con le sue, questo tappeto bellutato di foglie che veramente è da toccare perché è un'emozione, una sensazione bellissima quella di accarezzare questa pianta e sopporta benissimo anche le basse temperature ed è puramente un valore aggiunto la fioritura primaverile fatta di piccole spighe rosa. Oppure qui, generosissima nella sua fioritura primaverile, l'autonna che rifolia, i suoi fusti corrono sul suolo in ogni direzione con estrema facilità, con estrema rapidità e il tappeto di foglie Glauches si colora di giallo in primavera. E ancora, se vogliamo usare una pianta un pochino più originale per coprire i nostri suoli, questa è una pianta molto giovane per cui non vedete effettivamente l'effetto coprente, ma vi posso garantire che emettendo nuovi rami dalla base della pianta si ha effettivamente un effetto di tappeto con l'eufordia mirsinites, con i suoi originalissimi fiori nelle parti apicali, nel periodo primaverile. Continuando nella presentazione di piante che possiamo utilizzare per coprire il nostro suolo, il poligonum capitatum, una pianta che è generosissima nella fioritura, tra l'altro molto molto graziosa, parte, unisce tra l'altro anche una bellissima foglia con questa V che l'attraversa, una pianta un tantino più esigente dal punto di vista dell'acqua, sicuramente dobbiamo bagnarla più di frequente e tra l'altro gradisce anche posizioni di mezz'ombra. Ora, quando pensiamo al giardino mediterraneo pensiamo a un luogo che è battuto dal sole, ma non si escludono situazioni nella realizzazione di questi luoghi che possono aver bisogno e necessitare di piante un pochino più abituate all'ombra. La stessa cosa, nel stesso contesto si può ambientare la bellissima mule vecchia, complessa, con queste foglioline tonde che sale, si cammina sul suolo, ma se trova a ENA che la possibilità sale anche in verticale, su muri e alberi, riesce a cespugli, non ha una fioritura significativa ma veramente dà una grande copertura. Un altro coprisuolo con fusti lignificati in questo caso è la coprosma chirchi nella forma variegata, un disegno nella foglia molto elegante, con questo bordino bianco, e anche lei è una pianta che riesce a tappezzare il suolo anche in tempi abbastanza veloci. Sono piante queste che si adattano anche a temperature più basse, a minima invernali più basse, e il poligono per esempio può succedere anche di vederlo sparire in giardino, ma non preoccupiamoci, se andiamo sotto zero può sparire, ma in primavera lo vedremo riproposti. Tra l'altro è una pianta che è nell'elenco delle cosiddette piante vagabonde che si diffondono con estima facilità nel nostro giardino. Dietro invece ritorniamo a un'essenza tipica del paesaggio mediterraneo, un chamedion, un tecum chamedris, in questa stagione non potete apprezzarne i fiori che sono primaverili, sono rosa, e in questo caso non abbiamo un effetto coprente radente al suolo, cioè la pianta non si sviluppa proprio al livello del suolo, si solleva quei 30-35 cm, ma l'effetto finale è proprio quello di un cuscino, un tappeto di foglie. Nel nostro giardino mediterraneo può essere necessario colmare degli angoli con dei cespugli magari solitari, e quindi le proposte del livello di Capitanio in questo settore sono veramente tantissime. Qui stiamo inquadrando una boronia crenulata, una pianta, mi dispiace non potervi far sentire, il profumo che semplicemente allo sfiorandola viene fuori da questa pianta, un profumo che sa di sedano, di finocchio, un profumo che sa di ortaggi, è una pianta che non si stanca di fiorire dalla primavera all'autunno, con questi fiori a quattro petali che sono molto molto graziosi. Cespuglio che viene dall'Australia, dove vive in prossimità degli eucalipti, questo ci indica la sua capacità di sopportare periodi di grandi siccità, periodi di secco, di asciutto, nonché anche temperature di qualche grado inferiori allo zero. Dietro, questa è una pianta che abbiamo riproposto, proprio in questa stagione, la novità di questa stagione, cresceva la pianta madre del nostro giardino botanico, che la stiamo riproponendo per la sua bellezza, anche perché va a colmare un periodo dell'anno, l'autunno in genere, in cui molti hanno bisogno di ancora colore in giardino, che oltre alle fruttificazioni, è regalato da piante che proprio scelgono di fiorire in quel momento dell'anno, l'autunno, e conservano le fioriture anche per tutto l'inverno. È una pianta messicana, una cufea melvillea, un cespuglio che può superare anche i due metri di altezza, con questi fiori dai colori molto caldi, solari, questo giallo, questo arancio, è una pianta che si difende anche dal freddo, intelligentemente, perdendo le foglie, non è una sempreverde, quindi dopo la fioritura andrà in riposo, perdendo le foglie. Necessita di potature anche abbastanza frequenti, perché come vedete i fusti sono a decorso ascendente, eretto, per cui se vogliamo renderla più folta, più compatta, più densa, necessariamente dobbiamo intervenire con delle sforbiciate che la pianta tollera. Bellissimo. Ancora volendo giocare sui profumi, una pianta profumatissima che molti utilizzano qui come anti-zanzare, questo odore effettivamente dovrebbe allontanare questi noiosi insetti, è il tagetes lemmoni, questa pianta messicana che da solo assume un aspetto sferico, rotondeggiante, sempreverde in questo caso, fioritura primaverile, ma anche replica autunnale, come state osservando, ed è una pianta che sopporta bene il taglio, quindi quando vediamo che si è un tantino filata, izziolata, allungata, non preoccupiamoci di tagliarla, perché recupera con estrema facilità, con grande facilità. C'è spugli che possono impreziosire angoli in giardino, stiamo osservando il bellissimo fiore, simile a quello di un gessoomino, di una carissa a grandi flore, è una sudafricana che cresce in maniera un po' più scomposta, ma con pazienza e con cura riusciamo a conferire una forma ordinata, foglia brillante e anche interessante fruttificazione. Teme un po' le temperature basse, anche perché vegeta nella fase autunnale, per cui le parti apicali più tenere potrebbero essere danneggiate dal gelo, ma una pulizia primaverile consente alla pianta di riprendersi alla grande. Qui in basso invece la carissa nana, che ha tutto riproporzionato, le dimensioni del frutto, della foglia e del fiore anche, e che invece ha un portamento un pochino più ridotto, più basso, non si solleva molto, ha un portamento quasi prostrato. Sorvolo sulla strada nuota conosciuta poligala, mirtifoglia, la pianta che è fiorita a 10 mesi all'anno, con questi fiori, i suoi fiori fucsia, come pure, un passaggio velocissimo, perché molto resistente, l'abelia, nella versione Eduard Bouchet, questa nella forma rosa, pianta che in base all'andamento climatico può essere da decidua a semidecidua, ho scelto questa forma a fiore rosa perché è più lento nell'accrescimento rispetto alla stranota grandiflora e quindi ci permette di utilizzarla, a differenza della grandiflora che può finire nel novero delle piante da siepe e da parete, può essere utilizzata come cespuglio isolato, fiorito nel corso dell'estate. Quindi, dall'India, il rafiolepis, in questa stagione dice parla poco questa pianta, ma in primavera, veramente, è affascinante. affascinante, qui siamo accanto a un esemplare di indica dai fiori rosa, produciamo in livello anche una forma alba, un bellata a fiori bianchi, in primavera vi garantisco che sono uno spettacolo, piante che hanno anche una notevole rusticità e che in autunno si rivestono di bacche bluasse, di bacche nere, tra l'altro anche eduli. dalle canarie, lecchium fastuosum, una pianta velocissima, a dir poco, in giardino, queste foglie glauche e soprattutto i suoi pennacchi blu in primavera, è una pianta che tanto velocemente cresce e tanto velocemente invecchia, per cui, rassegnatevi al fatto che dopo 7-8 anni dobbiamo rinnovarla, perché è una pianta che lignifica tantissimo e che non sopporta le potature nel legno, per cui dovremmo sostituirla in giardino, ma è l'andamento normale di questo cespuglio. Dalla Cina, molto resistente anche al freddo, lo Zantoxum beikeyanum, questa pianta che ha le foglie profumate, eccolo qui, un piccolo cespuglio, la foglia è composta ed è lucida, quindi crea veramente dei cuscini di folti e verdi nel giardino e a seguire abbiamo qualche ultimo fiore, ormai non è più stagione, di Gaura. Di Gaura ne produciamo diverse colori, diverse colorazioni, la mia preferita è l'alba, perché è quella che ha più voluminosa come dimensione, diventa molto alta, possiamo arrivare con le spighe anche oltre il metro e mezzo, il metro e ottanta di altezza, fioritura continua dalla primavera all'autunno, morbida, vaporosa, sembrano tante piccole farfalle che aleggiano sulla pianta. La pianta proviene dal Nord America, sopporta benissimo anche le basse temperature, potatura vigorosa in primavera, le possiamo accorciare a pochi centimetri dal suolo, perché hanno una capacità di ripresa veramente eccezionale. Continuando nella presentazione di piante che possono essere cespugli nel nostro ipotetico giardino mediterraneo, sicuramente interessanti sono i mirti. Uso il plurale perché in realtà è un pianeta a sé, quello dei mirti, la pianta simbolo di femminilità per eccellenza. Qui vediamo la forma del comunis, poi c'è l'eccellenza pugliese, il tarentino, che vedete qua, il tarentino, e il pumila. Nulla vieta di poter utilizzare queste piante oltre che con la funzione di cespuglio isolato per creare delle bellissime quinte verdi, fiorite in primavera, ricche di frutti in autunno, ma sono anche altrettanto accattivanti se utilizzati in giardino come cespugli simboli. Sono piante che come la stragrande maggioranza di piante che provengono dal mondo mediterraneo necessitano di bagnature completamente assenti. Queste piante infatti affrontano i mesi di calura con la cosiddetta estivazione, quindi magari può succedere che perdano un po' di foglie, ma è proprio l'escamotaggio, la tecnica adottata da queste piante per difendersi dalla grande calura, pronte a ripartire, una parola molto di attualità, la ripartenza, ripartire più generose quando c'è una maggiore disponibilità di umidità nell'ambiente. Quindi ecco, magari l'indirizzo è quello di non mettere le piante che hanno proprio un'estazione mediterranea in prossimità di prati. Una lavanda come quella che vediamo qui, in Bivaio abbiamo una ricca collezione di lavande, qui propongo una delle più gettonate che l'ha dentata Candicans, anche perché è una delle più generose nelle fioriture, praticamente qui al sud non smette mai di fiorire. Il consiglio è quando si usano delle piante rigorosamente mediterranee che provengono proprio dal bacino del Mediterraneo di non collocarle in prossimità di prati all'inglese che sappiamo hanno bisogno di bagnature frequenti d'estate perché loro non hanno bisogno di questi apporti di acqua e quindi la presenza di umidità potrebbe essere controproducente, potrebbe indurre questo deposto di acqua malattie che le fanno morire anche in brevissimo tempo. Ancora, come cuscini per il nostro giardino, i cisti, anche qui in Vivaio c'è una collezione molto ampia di cisti, in genere i colori dei cisti vanno dai bianchi ai rosa, possono essere a fiori puro, possono avere il petalo con un piccolo spot, una piccola macchia, una piccola unghia alla base, le loro fioriture partono in marzo e ci accompagnano fino a giugno, sono delle piante sempre verdi, fogliami profumatissimi, non necessitano di bagnature, se non quella iniziale della messa a dimora. Nella parte qui posteriore è una pianta di Medicago arborea, è una pianta che in estate diventa, lasciatemi il termine, bruttina, ma perché lei si sta difendendo dal caldo, perdendo le foglie. Voi adesso lo osservate in uno dei suoi momenti migliori, quando è rigogliosa, è piena di foglie, a cui seguiranno poi in primavera dei tanti fiori gialli, si riveste completamente di fiori gialli. E qui in primo piano c'è una pianta di Artemisia canforata, profumatissima, questa pianta forma dei cuscini, la possiamo utilizzare per fare delle bordure. Ecco, in giardino spesso insieme alle siepi, può essere necessario segnare un percorso con delle piante basse, e quindi oltre che utilizzarla singolarmente, posizionandole in successione, mettendole in fila una dietro l'altra, possiamo realizzare, segnare dei percorsi nel nostro giardino. E ancora una pianta che viene da Sudafrica, un'erica canaliculata, è in fase di bocciolatura in questo periodo dell'anno, pronta a fiorire già nel mese di dicembre, già in pieno inverno anche, è un cespuglio che può arrivare al metro e mezzo, un metro e ottanta di dimensione, fiori rosa inizialmente, poi sfiorendo tendono al bianco. Sono piante, anche queste, anche l'erica canaliculata, da secco, da asciutto, per cui ricordiamoci sempre di non abusare con l'acqua, ma piuttosto buttiamo via il tubo di irrigazione dopo la messa al dimoro. Siamo accanto a una bellissima pianta di salvia. Le salvie sono le altre protagoniste dei giardini mediterranei e in bivaio ne abbiamo veramente tantissime, ma è praticamente impossibile averle tutte, se non le si colleziona, perché è uno dei generi botani più ampi, sfioriamo le 900 specie e tantissime ibridi e varietà. Quello che stiamo osservando, in questo momento dell'anno, come potete vedere, non è una fioritura forzata, ma è una fioritura proprio stagionale di questa salvia, chiamedroides isocroma. Non mi soffermo sulla bellezza, perché la pianta parla da sola, è veramente un gioiello, direi, sono dei lapisazzoli che questa pianta mostra in questa stagione. Accanto la salvia farinacea victoria, che cresce anche in Inghilterra, una pianta che sia nordamericana, ma ha un'estazione nordamericana, e quindi gli permette di svernare, anche dove le temperature sono più basse, perderemo in inverno tutta la parte aerea della pianta, ma poi dal pedale lei riparte con i primi tepori primaverili e riprende e recupera, consentendoci una ricca fioritura. La camedroides che abbiamo visto prima va tenuta un tantino più asciutta per quanto riguarda le innaffiature, la farinacea victoria invece gradisce degli apporti d'acqua maggiori. Il rosso invece, c'è gli ultimi fiori rossi su questa salvia greggi, che anche è generosissima nella sua fioritura dalla primavera all'autunno, ma appunto vi invito a chiederci ancora approfondimenti sulle salve, perché in realtà ne abbiamo tantissime in vivaio. Continuando nella nostra passeggiata in un giardino mediterraneo, sicuramente incontriamo le graminacee, sono diventate delle piante molto, molto attuali e di moda, molto utilizzate, per esempio il verde pubblico le utilizza tantissimo negli allestimenti, di rotatori, di aiuole, di parchi urbani, di parchi cittadini, e questo in virtù del fatto che sono piante veramente molto spartane, non necessitano di grandi apporti di acqua e sono poi generosissime nelle loro originalissime fioriture. Qui, di fronte a me, c'è per esempio la festuca. La festuca parla con il suo colore, questo colore grigio, verde, azzurro delle foglie, la fioritura non va neanche citata, è un cuscino che è bello, 12 mesi all'anno, non ha bisogno di altro e sebbene in vivagio abbiamo una collezione vastissima di graminacee, quelle che al momento si attardavano con le loro fioriture e che quindi vi presento, immaginatele abbinate per esempio queste graminacee a piante anche cactacee oppure ad altre piante erbacee fiorite nel corso dell'estate, la verbena bonariensis per esempio che erano degli accostamenti molto molto originali, la bidens equisquama, allora qui quelle che presento in questo momento perché hanno ancora delle spighe, il penisetum messiacum con le sue spighe rosate, ma il genere penisetum abbiamo tantissime specie in vivaio e poi ai due lati le ho messe a distanza proprio perché si tende facilmente a confonderle, questo è un miscantus sinensis gracillimus, i suoi pennacchi in alto e da questo lato un penisetum invece miscantus sinensis ferner osten la gestione di queste piante è semplificata è molto molto facile in primavera un taglio a pochi centimetri da terra e il cespo si presenterà più ricco di spighe più ampio e più ricco di spighe queste piante graminacee dialogano benissimo anche con le piante grigie che piante grigie sono le piante che hanno il fogliame tomentoso ricco di una microscopica peluria che gli conferisce appunto questo colore e sono piante perfette per i giardini mediterranei per le grandi esposizioni al sole se vogliamo è un'evoluzione che la foglia ha avuto con l'applicazione di queste microscopiche microscopiche peluria proprio per respingere i raggi solari e quindi qui ce ne sono una piccola rassegna a cominciare dal vedete quanta luce sprigionano queste piante di senecio vira vira oppure di cineraria marittima la differenza oltre che nel fogliame anche nella fioritura nella prima piuttosto visibile il fiore color crema più carico di colore nella cineraria oppure l'elicriso trascurando il gradevole profumo di liquirizia che questa pianta emette e il colore del fogliame che ce la fa scegliere o ancora profumata ma bellissima e fiorita nel pieno cuore dell'estate in agosto con i 30 gradi e più l'origano di creta di cui vedete sulla pianta sono rimasti sebbene secchi i rami con le infiorescenze sempre da creta quella che viene comunemente indicata come vedovella delle scogliere perché cresce proprio in prossimità del mare è un cuscino di foglie grigio verdi adesso la pianta non mostra la sua fioritura che è primaverile i fiori sono ampi rosa piatti e ai fiori seguono un interessante frutto sferico molto decorativo da non recidere da lasciare sulla pianta perché è molto molto decorativo ancora piante grigie il convolvolo cneorum che vedete qui nella parte posteriore con i suoi fiori a coppa bianchi in primavera e un ginepro che non necessita di nulla abbiamo scelto la varietà del uniperus orizzontalis blue chip per il suo colore le piante grigie sono affascinanti in qualsiasi momento dell'anno diciamo che non dobbiamo attendere il periodo della fioritura perché se accostate a delle piante che hanno fogliami verdi o fogliami rossi avrete un giardino colorato 12 misilano senza dover attendere l'epoca della loro fioritura se vogliamo invece con le piante succulente ottenere anche dei cespugli di una notevole dimensione notevole altezza scegliamo gli eonium in particolar modo qui stiamo osservando un eonium arborium atropurpurium la pianta che cambia il suo colore tra la primavera l'estate e l'autunno e quindi colorazione verde in fase autunnale invernale e colorazione rossa invece in fase primaverile sono osservati nel loro insieme paragonabile dei bouquet di grandi rose con una gestione veramente minima una succulenta invece interessantissima che viene dal nord america è l'esperalo e parviflora ha una fioritura si molto 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 alta questo fiore di color corallo che resta sulla pianta per tutta l'estate è una fioritura veramente lunghissima e la pianta alla base è un cespo di foglie e nastri forni fortemente carenate impreziosite da riccioli d'argento e quindi qui dietro di me anche qui colore per tutto l'anno una pianta che nei giardini mediterrani può finire in piena terra ma può essere anche curata in un bel vaso in una veranda in un patio è un'euforbia lomi con i suoi fiori originalissimi in genere euforbia dei fiori che proprio hanno un nome specifico si chiamano ciazio proprio per la loro organizzazione e ancora accanto a una ricca presenza di opunzie di fichi d'india nelle forme da frutto o nelle forme ornamentali e di aloe di diverse specie in vivaio c'è la possibilità di scoprire tante agavi qui ho accanto a me semplicemente una gemini flora ma vi invito veramente a scoprire tutte le altre varietà di agavi che coltiviamo con passione negli vai capitani forse abbiamo toccato l'argomento ombra perché in un giardino con ovviamente si vengono a creare dei coni d'ombra anche in un giardino mediterraneo che è fatto per il sole come lo risolviamo in azienda abbiamo la risposta per questo questo argomento con delle piante che hanno bisogno di crescere in condizioni ombrose dove la luce appunto filtra solo attraverso i rami delle piante superiori e quindi i noti ruscus cui produciamo qui vedete la forma dell'ipoglossum ma trovate anche il lipofillum trovate il racemosus e trovate anche l'aculeatus il pungitopo oppure l'acanto l'acanto che è una pianta che si sta tanto rivalutando per la sua generosità la sua semplicità la sua bellezza l'acanthus mollis oppure la lirope spiccata per fare dei tappeti con queste foglie nastriformi dei tappeti in ombra che poi si impreziosiscono nel corso dell'estate di spighe di fiori rosa seguiti poi da capsule nere o ancora una pianta che proprio veniva utilizzata in passato nelle cappelle delle chiese perché appunto gradisce non dico quasi il buio completo ma una luminosità proprio ridottissima la spigistra elatior pianta antica delle nonne la pianta ormai molto molto che stiamo riproponendo a giusto motivo perché risolve alcune problematiche in giardino e quindi il bellissimo invece philodendron accanto al noto philodendron cellum dalle foglie più ampie lo xanadu che è presente invece un fogliame più raccolto e quindi più facilmente gestibile e più adatto anche a luoghi di dimensioni più ridotte ci prepariamo in azienda anche ai futuri cambiamenti climatici quindi alle temperature che tendono a salire e che ci consentono quindi di impiegare delle essenze che hanno delle provenienze subtropicali sono accanto a una bellissima alocasia ma portodora produciamo anche la macroriza che è la classica il classico orecchio d'elefante nella portodora questo ibrido tra la portoia e l'odora vediamo diciamo la foglia è più increspata e il fusto è più scuro o ancora di aree subtropicali produciamo strelizie la regina l'uccello del paradiso ma anche la nicolai che qui vedete in un formato di piccole dimensioni ma possiamo trovare in azienda anche piante di dimensioni più ampie e ancora un banano non è una musa paradisiaca è una musa basiò saccalin è una delle musse più settentrionali al mondo che sopporta delle temperature molto basse anche se tutta la parte aerea viene distrutta dal gelo lei può ripartire magari con l'aiuto di una facciamatura invernale e diventare interessante nella stagione primaverile successiva oggi abbiamo solo toccato in parte quella che è la produzione di Viva il Capitanio e vi invitiamo a contattarci in qualsiasi momento per continuare insieme a scoprire tutto ciò che produciamo da anni con passione e con dedizione qui in Puglia un ringraziamento alla platea del Flormat City Forum per l'interesse e l'attenzione dimostrata questa mattina arrivederci a tutti a presto